Passione a 360 gradi, questo è il titolo del salone di Bologna e non poteva essere più indovinato per il marchio Renault. Passione, sportività, concretezza, ad ognuno il suo. Sono cinque le anteprime nazionali presentate e che saranno commercializzate nel corso del 2017. Coleos, il grande SUV che completa l'alto di gamma Renault dal carattere robusto e il design raffinato. Nuova Megane Grand Coupé, berlina a quattro porte che unisce le caratteristiche di una Coupé con il comfort e l'abitabilità da segmento superiore. Nuova Grand Sénique, la versione 7 posti che completa la gamma Sénique, veicolo familiare per eccellenza che rinventa il concetto di monovolume rivoluzionato nel design e con un concentrato di tecnologia e soluzioni inedite di modularità. Nuova Zoe, equipaggiata con la nuova batteria ZE40 che con un'autonomia record fra le auto elettriche per il grande pubblico, pari a 400 km dichiarati, segna l'inizio di una nuova era, rimuovendo le barriere psicologiche che hanno frenato finora il passaggio alla mobilità elettrica e rendendo l'auto 100% elettrica una soluzione di mobilità per tutti. Renault Sport presenta in anteprima nazionale nuova Twingo GT, la city car sportiva e stilosa, una piccola insolente tutta pepe che strizza l'occhio al pubblico maschile, precisa, confortevole e divertente. Nuova Twingo GT esalta il piacere di guida con sensazioni uniche ed accessibili, nella migliore tradizione delle GT progettate da Renault Sport. Nuova Twingo GT presenta The Turbo Outfit, la prima vendita online realizzata in collaborazione con Amazon che dura il tempo di un giro in pista a bordo dell'auto. Alla guida un ospite davvero speciale, il pilota F1 di Renault Sport Formula One Team, Julian Palmer. Inoltre, presenti sullo stand, ci sono Clio RS, Trophy, Megane GT e due auto da competizione Renault Sport RS01 e Clio Cup. Dacia, con la sua filosofia di acquisto intelligente, ha conquistato il mercato con dei prodotti che offrono il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Nel 2017, Dacia rinnova gran parte della sua gamma, proponendo un nuovo design interno ed esterno per nuova Sandero, nuova Sandero Stepway e nuova Logan MCV, con un supplemento di modernità. A Bologna, in anteprima nazionale, abbiamo la nuova Sandero Stepway, punta di diamante della gamma Dacia, insieme a Dacia. Grazie a un'inedita firma luminosa nella parte anteriore e posteriore, il modello presenta uno stile più dinamico e contemporaneo. Renault, la passione gira a 360 gradi. Grazie a tutti.